A Solombarda da anni si impegna sul versante della legalità, convinti come siamo che la legalità, il rispetto delle regole, il rispetto del mercato, sia una condizione fondamentale per la competitività. Il nostro impegno antimafia ha una sua dimensione etica, ma anche una sua attività funzionale. Diciamo ai nostri iscritti, ai nostri imprenditori, che il contatto con quel mondo, il mondo dell'Andrangheta, il mondo della Camorra, il mondo di Cosa Nostra, è un mondo inquinante del tessuto economico e delle loro stesse imprese. Ci sono stati, lo dice la storia giudiziaria, imprenditori che hanno fatto ricorso a intermediari mafiosi per risolvere un problema di credito, per sbrigare una pratica amministrativa, per stroncare un conflitto sindacale. Su questo noi siamo molto netti. Il rapporto con una struttura mafiosa consegna all'azienda la mafia per sempre. Un'organizzazione mafiosa non è un'agenzia di servizi. Ti rivolgi per avere un credito o per affrontare un problema. Nel momento in cui parli con loro hai perso la tua azienda e c'è una crescente sensibilità del mondo imprenditoriale milanese nei confronti di questo pericolo. A tutela del mercato e a tutela della competizione trasferente. Io credo che questa indicazione, questo lavoro che abbiamo fatto a Milano possa essere un possibile, utile punto di riferimento anche per altre strutture imprenditoriali. Può succedere però che un imprenditore, tanto in Liguria quanto altrove, in un certo momento della propria esistenza professionale si senta sola, solo, scoraggiato e allora a quel punto? Allora a quel punto noi diciamo ai nostri iscritti, parliamolo insieme. So bene che una delle condizioni più drammatiche per un imprenditore sia sentirsi minacciato sotto un pericolo incombente e però non tutelato, non protetto, non capito, osservato con atteggiamento burocratico da parte delle strutture istituzionali che dovrebbero proteggerlo. Noi ci siamo, i nostri imprenditori sanno che possono parlare con quel gruppo di Assolombarda che segue questo fenomeno e discutere e avere dei consigli, tentare di capire e insieme definire che cosa è possibile fare. I nostri imprenditori insomma non si possono sentire soli.